Il problema sta in questi termini. La nostra azienda sanitaria è in grado di offrire un sacco di prestazioni, però i cittadini sistematicamente si lamentano per la lunghezza delle liste d'attesa. Quello che è stato fatto non è che sia un qualche cosa di nuovo, l'abbiamo sempre fatto, ma ora si inserisce un contesto profondamente diverso, che è quello di una riorganizzazione di tutte le attività della nostra azienda sanitaria, in particolare del territorio. I medici di medicina generale definendo insieme ai colleghi ospedalieri questi percorsi assistenziali, grazie alla nuova organizzazione sanitaria, faranno sì che tutti i medici di medicina generale faranno queste cose. Mentre prima le facevamo in modo episodico, qualche gruppo di medici le faceva, qualche gruppo di medici non le faceva, questo portava una non omogenizzazione nell'erogazione delle prestazioni della nostra azienda. C'era il rito di Torregalli, c'era il rito di Santa Maria Nuova, c'era il rito di Pontanniccheri e questo crea sicuramente disagi fra gli utenti e i cittadini e i medici stessi. Quindi ora questa metodica che consiste essenzialmente nel medico di medicina generale di classificare l'urgenza delle prestazioni in base al bisogno assistenziale, in base alle condizioni cliniche del paziente e questa, la grossa navità, è diventata il modello aziendale di erogazione delle prestazioni. Non è più legata al dottor Landini o al dottor Vittorio Boscherini. Mi ricordo che il primo percorso assistenziale l'abbiamo fatto io e lui quando lui era ancora un assistente medico all'ospedale di Pontanniccheri, io un giovane medico nel 1986. Poi tutte queste cose sono sicuramente servite perché da lì che siamo partiti, ma erano legate essenzialmente alla disponibilità del dottor Landini e del dottor Boscherini. La novità che ora invece è diventato un modello, va bene? Si fa così per usufruire delle prestazioni. Siamo partiti essenzialmente dalle prestazioni cardiologiche e della gestione della trombosi venusa profonda e abbiamo intenzione di estenderla a tutta l'attività per garantire ai cittadini toscani sempre più migliori prestazioni e una maggiore tutela della loro salute. Io sono Vittorio Boscherini, sono il segretario regionale del maggior sindacato dei medici di famiglia della Toscana a livello nazionale.